Abbiamo delle gravissime scoperture di personale amministrativo, le ho segnalate anche in sede di inaugurazione dell'anno giudiziario a gennaio di quest'anno, lo ha segnalato la Presidente della Corte d'Appello, abbiamo una gravissima difficoltà. I procuratori mi continuamente rappresentano questa situazione di scopertura, ho citato poc'anzi l'esempio di Larino, dove su 15 unità di personale amministrativo, al momento ce ne sono 9, con l'introduzione di quota 100 a fine anno diventeranno 7. Sì, il procuratore generale Guido Rispori lo aveva già detto, lo aveva fatto in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, nelle procure manca il personale e l'attività giudiziaria è al collasso. Ammonimento rimasto inascoltato perché ad oggi le condizioni di lavoro non sono cambiate, anzi a breve, e lo dice sempre lui, ci saranno nuovi pensionamenti, quindi la situazione è definita drammatica, potrebbe addirittura peggiorare. Da qui la scelta, già effettuata anche in altre regioni italiane, per esempio nel Lazio e nell'Abruzzo, di lavorare ad un protocollo d'intesa con la pubblica amministrazione e nel caso specifico con la regione Molise, per individuare le strategie migliori di prestito del personale amministrativo che potrebbe adoperarsi all'interno del Palazzo di Giustizia. Accordo che questa mattina ha visto la firma in calce, proprio presso l'ufficio del procuratore generale. Ha visto la firma di Rispoli e del presidente della regione, Donato Toma. Confidiamo, diciamo in forza di questo protocollo, di poter potenziare tutte le procure, più o meno anche Campobasso e Iserni hanno difficoltà analoghe, ed è evidente che se ci arrivano queste unità di lavoro qualificato dalla regione che possono darci una mano nello svolgimento dell'attività d'ufficio amministrativa, la macchina di giustizia molisana sicuramente conoscerà un'accelerazione in termini di efficacia. È una strategia, insomma, per far fronte a quella che rischia di diventare una vera e propria paralisi delle procure molisane. Carabinieri che devono occuparsi di contabilità, procuratori con l'autista che fino al momento prima è impegnato nei decreti penali, insomma una situazione al limite del consentito che si spera adesso di migliorare individuando con la regione una collaborazione che frutti adesioni. Grazie a tutti.